Si sentevamo molto particolari a stare qui oggi insieme per salutare Manuel e per farvi anche un grosso imbocca di lupo perché tra un po' una prova nostra provava sempre, vero Manuel? Bene, è significativo che qua ci siamo a scuola e poi ci sono di maestro, di magellano, gli altri ovviamente non possono essere qui perché stanno in classe facendo lezione, ci siano compagni di una rappresentanza di compagni di Manuel, ci sia la famiglia perché insomma la famiglia è importante, non solo i genitori ma ci sono anche i nonni, i zii, i cuginetti, insomma è bello questo contesto familiare che siamo noi, che supporta la scuola, supporta la scuola, soprattutto Manuel. C'è la referente dei giochi matematici di cui parliamo in frattere, ringrazio la nostra nuova amministrazione, l'architetto Ricci, l'esterno della scuola, culturale, politica e di casoli, ma soprattutto abbiamo l'amministrazione comunale, che ci fosse in questo momento, ringrazio il sindaco, la consigliera delegata per aver raccolto l'inviso della scuola, perché volevamo rendere questo momento importante, dargli tutta la nostra attenzione. Allora, che cos'è il credito? La scuola quest'anno ha legito ai giochi matematici di attualità di grana, che sono giochi anche, diciamo, riconosciuti da NUR come situazioni di competizione, di gara, di sfida, che tende a valorizzare le eccellenze, le eccellenze scolastiche, quindi c'è anche, Anna lo sa, che in questo aspetto ci sono a lei, non mi credo legislativo, quindi il mistero della pubblica istruzione, finalmente si è posto il problema che a scuola oltre i bambini con difficoltà, e i bambini sono anche bambini che hanno una marcia in più e che vanno riconosciuti, vanno premiati, valorizzati con situazioni che abbia proprio per loro e anche con una didattica quotidiana che è diversa, che è un livello differenziale, perché non si può fare i corsi uguali, non si possono fare i corsi uguali tra i corsi uguali, come diceva, coloranze e un bianco, ma sono tutti diversi, no? Unico, 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 e questo è il bello dell'essere umano. Allora, ma a me ci ha dato prova di essere un ragazzo con una mossa in più, perché poi mi dirà la referenza in bene di cosa si fa, però io, insomma, ho voluto vedere tutti i risultati, quindi di tutta Italia, e comparare i dati, perché poi mi dà se vuole succedere qualcosa, andare un po' ad approfondire. Quindi, vanno, non solo ho fatto un punteggio, un macchino d'errore, spesso che è uguale a zero, diciamo, ma è stato il primo come tempo di consegna, quindi è stato, due ma velocità, una vista. Se va a nostra direttiva, ci vediamo. Grazie a Paolo Posse. No, ma è Sena, perché sono interrogata, poi sono andata a Falnoia a tutti, perché ho avuto le competizioni regionali, cosa apparese? In realtà tutti quelli che si sono classificati primi, come te, in tutte le regioni, hanno avuto un tempo di consegna molto più alto del tuo. Allora però cosa mi sorprende di Manuel? Che ci manetta una parte più su questo e poi ci lavoriamo. Però è di una umiltà, è di una serenità, e questo mi faccia la famiglia, perché sicuramente è una famiglia serena. E questo è che mi sorprende, perché in queste situazioni non è competitivo, ma è collaborativo, come dicevo che sia. Perché poi queste cose si vanno per sviluppare i parametri matematici, non per essere in gara l'uno contro l'altro, quindi lui gli da aiutare gli altri, perché sa di più e sa fare meglio. Ma poi è sereno, perché questi risultati si raggiungono quando non c'era anche la prestazione. E spesso i figli che stanno in una situazione di stagno, poi stanno male. E lui dice, lui no, vedete, è così. E io gli ho dato la mamma, gli ho fatto un grosso merito. Complimenti per quello che è stato, perché si è stato orgoglio per la scuola, 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 per la scuola. E se voi voglio anche nella regione della nostra regione. Per chi davvero un grande bocca al lupo, perché ti auguro che tu assonti questa cosa, non può essere, quando ero a Chieti ci siamo andati a Palermo a fare, è molto più bello in Cretanza. Non ce l'hanno con il gesto, quindi vabbè, si farà online. Però ti auguro veramente, perché non è importante risultati, ma è importante che tu affronti la prova con queste stesse spadeggie, come dice il tuo maestro, con cui ha scontato la prima. Quindi davvero un bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Allora, complimenti, davvero bravo, ma la preside è stata già molto esaustiva. ma sicuramente un merito tuo che ci dà lust a tutta la nostra cittadina, che ci dà lust proprio uscendo fuori dal nostro territorio vicino. Io ti dico una cosa, lo sai qual è la mia materia preferita quando te lo dico? La matematica. Io ho sempre amato la matematica, quindi stare qui oggi mi dà una felicità aggiuntiva, quindi se vorrei fare il sindaco con te non ti prepararmi il sindaco, ma non te lo consiglio. Però la matematica è sempre bella giù, quindi è bello stare qui a te che sei così bravo, preparato. Dico una cosa, quando uno è molto preparato su una materia è difficile stare a semagliare, perché tu vai avanti e gli altri hanno difficoltà a seguirmi. Ma come ha detto, la dirigente è stata un'unità, sicuramente troverà la possibilità di stare assieme a tutti quanti gli altri, soprattutto poter aiutare gli altri. Quindi, complimenti veramente di cuore, bravissimo a tutta la famiglia, a tutti quanti. Sicuramente il nonno, il nonno è sempre il nonno. Mi piacerebbe pure se la mia delegata potesse esprimere il suo pensiero. Allora, io mi aggiungo a loro una felicità, avere un ragazzo a sua ora che ottiene determinati risultati. Parto da questo posto, in un modo o in un altro. Ogni tanto però, torniamo fuori dei veri talenti. Ok? E tu sei un talento. Ok? Perché hai dimostrato un'attitudine, proprio perché hai consegnato i tempi più brevi degli altri. e questo si chiama attitudine. Ok? Quindi hai dimostrato di essere un ragazzo montato, sicuramente un ragazzo studioso anche. È vero? Ti piace? Però ecco, ricorda di mantenere questa tua umiltà e di essere di sostegno. Perché sarai una risorsa per questo istituto. E quindi di conseguenza di aiutare tutti i tuoi compagni e di metterti a disposizione. Una risorsa che cos'è? è qualcosa che va in aiuto, va bene, agli altri, a chi ne ha più bisogno. E tu hai tutte le caratteristiche qualcosa. Sei stato veramente bravissimo e io ti auguro di avere altri successi, altre emozioni, perché penso che sarebbe questa emozionata, no? Com'è? E di rappresentare sempre più il nostro territorio in un certo modo. Grazie. 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 Allora, devo ringraziare molto la docente, perché il dirigente può avere delle idee, però se non ci sono quelle persone che ti sostengono nel lavoro, che è sempre tanto quando propone qualcosa, non ti va da nessuna parte. Quindi, insomma, giravo attorno a questa idea e poi portavo su una persona, mi ha scolgione, mi ha scolgione, mi ha scolgione, mi ha scolgione. In realtà, inoltre, ho un'idea, ho fatto poco, perché poi c'è il lavoro che è tanto. Io ho proposto questa iscrizione e la preside ha subito dato il consenso. E quindi poi siamo andate avanti. Non è un po' che ci pensavo, quindi ci siamo incontrati. Ah, ok. Questo non lo sapevo, perché sono arrivata a sett'anni. Sì, assolutamente. L'iscrizione. E quindi tutto il lavoro è stato gestito dalla docente, perché dobbiamo anche dire che al di là di mano i nostri allunni della scuola hanno ottenuto dei buoni risultati. Sì, sì, sì. E insomma, abbiamo avuto delle ottime posizioni. Altri ottimi piazzamenti. Allora, l'iscrizione ai giorni matematici perché, innanzitutto, per giocare con questa disciplina che a volte si pensa sia ostica, antipatica, rimane difficile e poi perché loro, chi meglio di loro, sanno giocare. E quindi cerchiamo di dare spazio a tutti i bambini, perché poi noi con questi giochi ci giochiamo anche in classe. Non rimane lì la prova, non finisce lì, ma noi poi continuiamo a lavorarci anche con tutti gli altri bambini. I giochi matematici nascono in Sicilia con una manifestazione a carattere regionale con 30.000 iscritti. Oggi siamo ad oltre 200.000 iscritti su tutto il territorio nazionale e Manuela è arrivato prima a livello regionale. Quindi questo è davvero un grande riconoscimento e Manuela ha portato il nostro istituto alla finale nazionale. Quindi questa è davvero una grande cosa. I giochi sono anche un modo per integrare, perché comunque abbiamo dato la possibilità a tutti di partecipare e come diceva prima la precedente, di valorizzare le eccellenze. E io ti auguro, Manuel, di continuare a giocare con questa matematica lungo tutto il tuo percorso scolastico e vita. Davvero te lo auguro. E ringrazio i genitori che continueranno nella prova successiva, perché questa è una cosa che adesso tocca a voi, diciamo, caricolette, perché tutto è di presenza purtroppo. e ringrazio tutti i tuoi docenti di matematica che hai avuto fino ad oggi. Grazie. Applausi. Io vorrei sentire le sue parole perché ci tengo in particolar modo perché è stata... La madre dice sempre che lei è il miglior insegnante... Oddio, io li voglio dire veramente perché io mi trovo benissimo qua, vorrei rimanerci a vita perché mi trovo bene e sono felice di condividere con lui questo momento, perché veramente se lo merita, perché è un'emozione che vivo anch'io come lui, perché è stato geniale, è stato grande. Voglio aggiungere due cose... Lui non solo è stato primo, lui ha distaccato il secondo in modo imbarazzante, cioè quello che ha fatto secondo, ha consegnato... Era quarantaduesimo, se non sbaglio, come a tempi gli consegna. Lui ha usato, come dicevo prima, una strategia. Ha detto io tanto ne so, tanto vale. Perché? Perché gli ho detto se vuoi vuoi controllare tutto. Ha detto ma io perdo tempo perché togliamo, ho spiegato all'inizio. Perché a parità di punteggio prenderanno quello che consegna prima. Allora Luca fa... Ha usato proprio una strategia. Ha detto io per me ho fatto bene. Tutto sto tempo lo guadagno, consegno. Cioè 28 minuti noi consegniamo una prova che andrò fatta in 90 minuti. Un'altra cosa è una cosa da chiudere. E poi se non mi dicevo che volevo aggiungere una cosa, volevo aggiungere... Ho portato anche gli altri perché? Vi spiego perché. Perché giustamente scelgono il migliore di un istituto. Ma lui ha fatto 14 su 15 ma anche nelle prese lettive, nelle selezioni. Questa è una squadra dove molti hanno fatto davvero dei grandi risultati. Ma perché c'è lui? Non li hanno presi! Vi faccio solo questo. Ci sono istituti che sono andati in finale azzeccando le 11 su 15. 12 su 15. Ma abbiamo quello alto. Abbiamo tutti loro che hanno fatto 13. Bravissimo! Bravissimo! E volevo continuare insieme a loro questo momento perché è vero che questa è una squadra. È vero che male è arrivato al gradino più in alto. Però anche loro sono arrivati in alto. E' vero che è una squadra, lui è nostro capitano, però una squadra è fatta anche di sostegno e di ragazzi che lo supportano, che lo aiutano e lo fanno sentire quello che è. Le cose non si raggiungono mai da soli. E lui dietro c'è una... cioè dietro di lui non c'è il vuoto. Ecco, questo vi voglio dire. Ci vengo a dire perché sono dei ragazzi straordinari anche loro. Grazie. 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 Iuteni giusto. Grazie. 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 Grazie.